cari telespettatori di avv live benvenuti oggi tratteremo un argomento diciamo abbastanza delicato un argomento religioso un argomento per quelli che hanno a cuore certi temi religiosi siamo in compagnia di raffaele sabatino un giovane erpino che ha studiato presso l'istituto di scienze religiose con sedia d'avellino e nel 2018 precisamente nel giugno del 2018 come tesi per la sua laurea ha deciso di portare un argomento ben preciso e delineato la figura del giovane brindisino matteo farina nato d'avellino ma comunque di origini puiesi e quindi brindisino classe 1990 deceduto all'età 18 anni 18 anni e mezzo nel 2009 grazie raffaele per essere qui oggi buongiorno grazie a voi come ha detto iusef giornalista iusef oggi vi parlo di matteo questo giovane ragazzo che sta nel lungo itinerario per essere santificato la causa di bettificazione di matteo sta attualmente attualmente presso la sede del vaticano il 26 il 19 settembre del 2016 è stata aperta la causa presso la diocesi di brindisi e si è conclusa positivamente il 24 aprile del 2017 quindi solo dopo sette mesi matteo è un giovane è stato un giovane nel mondo ma fuori dal mondo in senso positivo era un giovane amato e rispettato da tutti un giovane come gli altri che si che si sapeva integrare nella società con una caratteristica molto molto particolare che per la sua età e per il suo percorso è fuori dal comune ossia lui è se distinto per la sua fede soprattutto per la sua malattia e affrontato tutto con un coraggio incondizionato e senza paura per quanto riguarda la diocesi di brindisi il processo per far sì che si potesse arrivare a portare questa causa nobile fino alla città del vaticano è esaurito in poco tempo mi dicevi dietro le vinte si tratta di pochi mesi in cui gli addetti lavori hanno stabilito che questo processo poteva trasferirsi dalla città pugliese alla sede del papato romano ma al di là di tutto di questo come ti sei interessato la causa al di là di quello che è stato mattefarina che tu non hai conosciuto e e soprattutto quali sentimenti nobili hai trovato in questa causa beh non posso dire che è stata una cosa molto semplice nel senso che è stato comunque un colpo di fulmine come un io le chiamo dio incidenza dio incontro precisamente il mio percorso con per l'interessamento della causa ma soprattutto per l'interessamento che provo verso questo giovane inizia navigando via internet esattamente sulla pagina facebook associazione nazionale proprio boys dove vengono riportati tutti i temi da livello sociale livello religioso guardo questo sorriso che fulmina leggo un po la sua storia molto in modo molto semplice molto vago però dopo qualche giorno questa figura mi torna sempre in mente così decido di approfondire la figura di matteo leggo più intensamente la sua storia la porto al mio prof dell'istituto e insieme approfondiamo sempre di più questa figura in che modo mi sto occupando della causa cioè diciamo che a me ea livello più sentimentale però ogni tanto quando mi chiamano vado a portare la sua figura tramite qualche convegno ultimamente sono stato all'ospedale moscati dove ho parlato di matteo e nel corso dell'anno ho fatto altri due convegni uno a monte fusco il nel mese di marzo e poi a fontana rosa nel mese di aprile poi inoltre sono stato ancora per approfondire di più la percorso al proprio nei luoghi dove il ragazzo ha vissuto ho visitato la chiesa la cattedrale dove lui riposa cosa essenziale voglio riposare c'è voglio sottolineare il fatto che lui riposo in cattedrale che non c'è una cosa rara che ragazzi vengano seppelliti in cattedrale dopo un certo periodo di tempo però stesso penso che stesso per volere del vescovo di brindisi abbia voluto matteo in cattedrale per sottolineare la sua la sua tra virgolette fama di santità del ragazzo quindi ripeto è stato un colpo di fulmine in questo modo mi sono interessato perché matteo è come una guida come un amico che tutti vorrebbero avere quindi una guida un supporto questo è il libro dedicato alla figura di matteo farina edito da velar scritto da francesca consolini matteo farina semplici come dio ci vuole vado a leggere anche un passaggio di un opuscolo che è correlato e che stamattina ci ha portato raffaele sabatino nei nostri studi dedicato appunto alla figura di questo giovane matteo farina un servo di dio matteo farina trascorre la sua breve e intensa esistenza terrena a brindisi come abbiamo detto cresce circondato dall'affetto della sua famiglia dei suoi amici della comunità parrocchiale e della sua fidanzata che gli sarà vicino negli ultimi due anni della sua vita per la quale matteo poi proverà un amore umano profondo e casto basato sui valori cristiani come ogni ragazzo della sua età coltiva la passione per lo sport l'informatica e la musica che lo spingerà ad imparare a suonare diversi strumenti e che adolescente gli permetterà di fondare con i suoi amici un gruppo musicale si applica con grande diligenza e profitto nello studio ottenendo risultati eccellenti partecipa abitualmente la santa messa quotidianamente legge la parola di dio recita il rosario e settimanalmente si accosta al sacramento della riconciliazione due fenomeni segneranno la sua vita un sogno e la diagnosi di un tumore cerebrale che poi appunto come avevamo detto anche in precedenza con raffaele lo porterà alla morte nel 2009 all'età di solo di 18 anni parliamo del sogno intende l'età sogna san più da pietracina che gli svela il segreto della felicità e gli affida una missione matteo così poi racconterà il contenuto della parola che aveva rivolto padre pio durante questo sogno particolare se sei riuscito a capire che chi è senza peccato è felice devi farlo capire agli altri in modo che potremo andare tutti insieme felici nel regno dei cieli raffaele parlaci di questo importante episodio che ha fatto parte della vita di questo giovane matteo farine questo giovane prossimo se vogliamo dire speriamo alla beatificazione anche nella santa sede dopo aver ricevuto l'ok da parte della diocesi di brindisi questo episodio come ho detto che ha segnato fortemente questa vita e che poi ha tramandato questo insegnamento anche a quelli che erano vicino a matteo farine sui conoscenti ai suoi amici e ovviamente anche sui familiari sì il sogno abbiamo detto è stato il culmine del suo percorso di fede anche se già da prima del sogno lui era già vicino alla fede alla chiesa per quanto riguarda il sogno quello che ho potuto capire è stato molto prudente nel parlarne perché ovviamente non si può sbandirare a tutti un sogno di tale importanza c'è un'altra frase molto importante che secondo che dirà dopo il sogno cioè dirà nei suoi scritti resterà scritto perché lui farà anche un diario dove dirà spero di realizzare la mia missione di infiltrato parlando dei giovani di dio osservo chi mi sta intorno sperando di contagiarli di contagiarli di una malattia senza guarigione l'amore lui quindi concretizza il sogno che ha fatto proprio attraverso l'amore che darà a tutti contagierà a tutti di questo amore incondizionato verso dio ma soprattutto verso il prossimo questo raggiude il sogno in realtà i primi sintomi della malattia di matteo farina si avranno all'incirca nel 2003 seguiranno poi diversi accertamenti che lo porteranno attraverso diverse città a verona a tabellino inizialmente poi a milano fino ad arrivare in germania precisamente ad hanover a partire dal gennaio 2005 passano due anni arriviamo a dicembre 2007 dove lui deve affrontare nuovamente un altro intervento al cui poi seguiranno altre operazioni molto molto delicate che però non riusciranno a guarire il terribile male in tutto questo periodo di grande sofferenza e comunque un periodo in cui lui versava in condizioni certamente critiche soprattutto negli ultimi due tre anni matteo farina trova comunque la forza il coraggio di mettere nero su bianco questa sua esperienza consapevole del fatto che lui poteva essere un tramite anche per coloro i quali continuarono a vivere dopo la sua morte e quindi lasciare un insegnamento a tutte le altre persone a quelli che gli erano vicini in quei giorni tristi e bui ma anche a coloro i quali poi successivamente conosceranno la sua figura come appunto può testimoniare raffaele sabatino cosa significa essere stati capaci per mattino farina di scrivere le sue sofferenze ma mandare anche un messaggio di speranza per tutte le persone di questo pianeta si può descrivere una cosa soprannaturale cioè fuori dalla portata di tutto e di tutti cioè sconvolgente che in termini molto nobili che un ragazzo con con un male così brutto riesce a sorprendere tutti del suo coraggio che ha che significa è un esempio un esempio veramente affascinante sia dal punto di vista personale che mi ha colpito per primo che sono la prima persona che si scoraggia ha paura su tutto non lo nascondo e poi si ritrova davanti a sé una figura così enorme piena di coraggio ti fa capire che veramente c'è qualcosa di grande di così grosso che da da un esempio a tutta l'umanità soprattutto per i ragazzi che lui è stato un ragazzo quindi è un esempio per i ragazzi ma non solo c'è quando uno si rende conto che c'è addosso che lo accompagna una malattia e deve rinunciare a tutta la vita di ogni giorno agli effetti e abbraccia il croce c'è il crocifisso se lo prende e lo porta insieme a sé senza mai lamentarsi potrebbe farci pensare che quasi quasi i malati siamo noi perché per lui che ha abbracciato una sorte così dura mentre noi ci lamentiamo già delle sciocchezze non ci sono parole quindi questa sofferenza dovrebbe farci capire come si può essere forti nel dolore nella tristezza ma non perdere mai la voglia di vivere Matteo Farina secondo genito di Michi e Paola Sabatini nasce come abbiamo detto il 19 settembre del 1990 nasce proprio ad Avellino tra l'altro quindi questo può essere anche un altro sintomo e può essere qualcosa che può far nascere l'interessamento anche degli Chirpini degli evelinisi di tutta la provincia ma la sua famiglia è originaria di Brindisi ha una sorella Erika di 4 anni più grande di lui che diventerà poi la sua più grande amica e confidente che probabilmente poi in questo momento a distanza di 10 anni dalla morte di suo fratello sta continuando a tramandare il messaggio positivo della vita terrena di Matteo Farina passiamo poi a un altro aspetto un altro aspetto anche della realtà della società civile le persone che sono malate e che comunque vivono una malattia come Matteo Farina come l'ha vissuta lui in un modo veramente incredibile una vita incredibile spesso abbandonano completamente la fede cioè nel senso loro dicono quello che mi ha fatto provare questo è Dio io perché dovrei seguirlo e dovrei comunque sottostare ai suoi comandamenti ai suoi litigi seguendo anche quelli che sono insegnamenti giusti della religione non solo cattolico-cristiano ma anche di tutte le altre religioni cosa può significare la vita di Matteo Farina per tutte queste altre persone che non seguono la fede e la abbandonano proprio perché si trovano in difficoltà può significare un esempio di fede cioè Matteo non dice perché mi hai abbandonato anche se in fondo a sé poteva penso che potesse avere paura perché la paura è umana però il fatto che le persone si allontanano dalla fede quando scopano che hanno un brutto male non è tanto una leggerezza ma fa parte della fragilità umana pure il Cristo quando è stato messo in croce negli ultimi istanti della sua vita terrena ha detto Dio mio, Dio mio perché mi hai abbandonato quindi da una parte c'è la fragilità umana però se si ha vera fede come a Matteo seppur a volte ci si pensa Dio mio cioè perché sono stato abbandonato l'importante come diceva stesso Matteo l'importante non è credere o non credere ma non smettere mai di cercare perché chi cerca trova e Matteo secondo me nel cercare in continuazione a Dio ha continuato a credere a sperare e ha fatto su fino alla fine le parole dell'apostolo Paolo quando dice ho combattuto la buona battaglia ho determinato la mia corsa ho conservato la fede in uno scritto di Matteo Farina Brindisino classe 1990 deceduto a 18 anni nel 2009 ormai 10 anni fa sarebbe bello riuscire ad essere semplici come Dio ci vuole questo è lo scritto che è rimasto anche ai conoscenti ai familiari e a tutte le persone che poi erano vicino soprattutto in quegli ultimi giorni di vita di Matteo il libro di Francesca Consolini edito da Velar è intitolato proprio così semplici come Dio ci vuole ma al di là della figura di Matteo Farina Raffaele Sabatino concludendo questa intervista e ringraziandovi voi tra l'altro di essere stato qui ospite nei nostri studi vuoi mandare un messaggio a tutti quelli che ci stanno seguendo ai nostri telespettatori un messaggio positivo un messaggio di speranza traendo spunto anche da questo libro che tu hai letto con grande dedizione il messaggio che vorrei lanciare lasciare a tutti è proprio appunto di essere semplici di fare della semplicità uno stile di vita proprio come richiesto da Dio essere semplici non è una cosa semplice appunto anzi a volte se diciamo che siamo semplici che diciamo ma io non faccio niente io qua in realtà non siamo semplici ma siamo presuntuosi invece come Matteo che faceva tutto per volontà di Dio con semplicità anche noi dovremmo sforzarci nelle nostre forze a proseguire il percorso della vita con molta naturalezza con molta spontaneità senza fare cioè senza svolgere il nostro dovere con dei fini da seguire da ottenere ad esempio diciamo io sono semplice così le persone mi vogliono bene no bisogna essere semplici perché è la vita che lo richiede il mondo che vuole semplicità dalle altre persone perché senza semplicità e senza esempio a partire da noi stessi non credo che il mondo possa sforzarsi di essere semplici cioè le persone che ci stanno intorno iniziano a essere semplici dal momento in cui noi per primi siamo semplici a sì Grazie a tutti.